si aprono le gabbie partiti cavalli dell'ultimo corsa bene la partenza di Morgan Blond dall'esterno ma Wheaton è il più veloce intenzionato a farsela davanti in seconda posizione c'è Benny Flamingo in quarta Ippus Dancer in quinta troviamo la Juba Arancio che è quella di Special Reason poi Comiso Sol, Kipana e chiude il gruppo il rientrante Pontier Wheaton è in vantaggio sta cercando di gestire i parziali Benny Flamingo si mette in seconda posizione seguito dal favorito Morgan Blond poi Ippus Dancer che guadagna una posizione ancora Special Reason in quinta che precede Comiso Sol all'interno galoppa Kipana e a chiudere il gruppo troviamo Pontier ancora Wheaton in vantaggio quando i cavalli vanno ad aggredire la curva Ippus Dancer adesso si è messo in seconda posizione in terza Benny Flamingo in quarta il favorito Morgan Blond a precedere Special Reason in sesta galoppa Comiso Sol che precede Pontier poi Kipana che cerca corsie più interne siamo già in dirittura d'arrivo con Benny Flamingo che prova ad affiancare Wheaton che adesso lancia la volata all'interno c'è Kipana ci prova subito anche Ippus Dancer Morgan Blond, Special Reason poi ancora Comiso Sol e Pontier 400 metri dal traguardo con Morgan Blond ancora non richiesto che si guarda alle spalle cercano una corsia ancora più esterna Wheaton che è richiesto a maggior impegno Morgan Blond contro Wheaton questo è il tema della gara quando mancano circa 200 metri dal traguardo Morgan Blond che passa di slancio adesso Wheaton deve difendere la piazza Morgan Blond ha già vinto Wheaton è secondo e Special Reason terza quando mancano 20 metri dal palo vice dunque Morgan Blond che da seguito alla brillante affermazione in handicap di minima alla trilpo in giornata Germano Marcelli il training è quello di Jacopo Bindi così come i colori la quota al tot era di 2,45 secondo Wheaton il numero 8 dello schieramento 5,8 e per il terzo Special Reason il 7 5,8,7 è l'ultimo ordine d'arrivo provvisorio della giornata per Morgan Blond era la decima affermazione in 36 uscite è tutto anche dall'ippodrome di Capannella vi ringraziamo per averci seguito prossima giornata di corse venerdì un saluto anche ai ragazzi dello studio che ai nostri spettatori qui sul campo personale che ai nostri spettatori sono stati che ai nostri spettatori sono stati che ai nostri spettatori che ai nostri spettatori assi 5,9 qui aiutelles